Presidente, lei che è stato uno dei pionieri della battaglia contro l'autonomia differenziata, adesso il clima è tesissimo anche con le immagini che abbiamo visto ieri che sono circolate su tutti i giornali di tutto il mondo, come commenta questa situazione, quello che è successo in Parlamento? Dico intanto che è cresciuta la sensibilità rispetto a questo tema di tutta l'area meridionale, nel sud il governo nazionale è in minoranza ed è un dato politico straordinario che segnala il fatto che la popolazione del sud ha capito, e non era facile, che l'autonomia differenziata significa la morte del sud, significa un lento declino, significa avere meno servizi ed è stata anche una risposta al tema dei fondi di coesione che sono bloccati da un anno nelle grandi regioni del sud, dunque la battaglia che abbiamo fatto noi a Roma per un anno, in qualche caso da soli, ha prodotto un risultato politico straordinario. Ora, la discussione deve entrare nel merito, se abbiamo detto per un anno, lo hanno detto i miei colleghi del Nord, che prima di procedere alla distribuzione di nuove competenze alle regioni bisognava definire i leppi, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè bisognava definire quali servizi garantire in maniera uguale a tutti i cittadini del nostro paese dal Piemonte alla Sicilia, se poi i leppi vengono dimenticati e si prendono solo i poteri, allora diventa una grande truffa l'autonomia differenziata e si apre la strada davvero alla rottura dell'unità nazionale. Dunque è necessario combattere, ovviamente, cercando di spiegare sempre nel merito ai cittadini italiani che cosa significa questa riforma, che così com'è, è una vera e propria grande truffa e davvero è un'operazione di contro-risorgimento altro che la nazione. La manifestazione contro l'autonomia l'ha fatta mesi fa, adesso la faranno anche i PD e il Movimento 5 Stelle, a Roma partecipa? Ma se sto libero partecipo a tutte le manifestazioni. Credo che sia un dovere impegnarsi in tutti i momenti di mobilitazione per fare in modo che davvero l'Italia non sia spaccata dopo un secolo.